Hai mai pensato che se sapessi disegnare con agevolezza non avresti bisogno di imparare le lingue? Eh sì, il disegno infatti è la forma più semplice di comunicazione. Tant'è che quando nostro figlio o una persona con cui abbiamo molta confidenza e con cui parliamo non capisce il nostro discorso, spesso intercaliamo quella simpatica frase che dice vuoi che ti faccia un disegnino? Bene, questo deriva proprio dal fatto che la visione della questione di cui si sta parlando rende palese l'argomentazione e quindi sarebbe molto molto utile imparare a disegnare perché in qualunque parte del mondo noi siamo e in qualunque lingua si parli in quella parte del mondo attraverso un rapido schizzo potremmo farci capire da chiunque. Ci avevi mai pensato?